Buon pomeriggio a tutti, bentrovati al Salotto dei Burdell, il consueto appuntamento settimanale che il Cesena FC dedica a voi tifosi da casa, ci sono un po' allentate le restrizioni negli ultimi giorni, ma ovviamente ne approfittiamo per fare due chiacchiere anche all'inizio di questa fase 2 per capire dove arriveremo e soprattutto per tenervi in compagnia con qualche aneddoto, con qualche curiosità, con i protagonisti di questa stagione al momento congelata da un paio di mesi, poi anche lì dal punto di vista sportivo dovremo ancora capire, lo capiremo forse entro la fine di questa settimana, ma questa ovviamente è un'altra storia, li vedete già collegati due dei protagonisti del Cesena di ieri e del Cesena di oggi, se vogliamo, li saluto, comincio naturalmente dal più vicino e anche dal capitano, da Bertinoro collegato via Skype, Beppe De Feudis, buonasera, buon pomeriggio capitano, buonasera a tutti, ciao e bentrovato, e invece collegato dal set di un film di Carlo Verdone c'è Emanuele a Roma, quindi hai provveduto autonomamente, tutto da solo, con uno shampoo allo zafferano hai colorato perfettamente il capello, benissimo, bando alle sciocchezze e veniamo subito al dunque, perché insomma oggi è il 5 maggio 2020, se me lo consentite è giusto partire credo da una data che è da un anno scolpita ormai nella memoria dei tifosi che ci stanno ascoltando da casa e poi li ricordo ovviamente che possono interagire con noi, mandando domande e curiosità, scrivendo le loro considerazioni, che poi Gianluca Rossi dalla regia ci girerà per sottoporre, da sottoporre le domande, insomma voi che siete nei vostri salotti, passato un anno ragazzi, sembrano 10, visti gli ultimi due mesi, ma è passato un anno da quella che è per entrambi, eravate sul campo tutti e due, la soddisfazione più grande di questo nuovo corso, Beppe tu hai vissuto anche il corso precedente, poi ne parleremo ovviamente, però fa specie pensare che un anno fa, proprio in questi minuti tra l'altro, avevate appena riportato il Cesena tra i professionisti. Sì, devo dire un anno fa, un'emozione bellissima perché ha sancito il ritorno del Cesena tra i professionisti e quindi un'emozione indescrivibile, un'annata incredibile da parte di tutti noi perché l'abbiamo vissuta da protagonisti sempre prima in classifica e quindi tranne qualche giornata, quindi è stato un campionato veramente bellissimo e speciale che ricordo felicemente perché ha sancito il ritorno, ripeto, del Cesena tra i professionisti e poi un grandissimo lavoro di un grande gruppo. Certo, Emanuele chiedo a te, tu dovessi chiudere gli occhi, il primo flash che ti viene in mente di un anno fa, di quella giornata cominciata nel primo pomeriggio e terminata la sera, io dico, adesso scherzando, la temperatura perché era inverno, un anno fa oggi ci sono 30 gradi in confronto. Battute a parte, cosa ti viene in mente, tu che sei stato uno dei protagonisti? Sì, a parte l'inverno, come dicevi te, perché sembrava una giornata di dicembre, sembrava comunque, a parte quello c'è stato il triplice fischio che lo ricordo benissimo, la gioia di tutti quanti, del nostro grande gruppo che comunque era diventata una famiglia alla fine, quindi è un'esplosione di emozioni indescrivibili perché vincere un campionato così con questa maglia, con il Cesena, rimani nella storia e quindi ce lo porteremo sempre nel cuore. Poi fu la partita, tra virgolette, più semplice e anche forse la meno emozionante perché ne avete vissute davvero di importanti, alcune vinte proprio anche negli ultimi minuti importanti durante la cavalcata, dovessi tu sceglierne una Beppe, la partita simbolo di quella cavalcata qual è stata per te? Ma per tutto quello che era successo ho sicuramente la prima in casa al Manuzzi con il Francavilla esatto e quindi lì a San Cito veramente poi nel nostro stadio tutto pieno era qualcosa di incredibile, veramente brividi da pelle d'oca e avevamo una responsabilità grande perché tutti si aspettavano da noi che dovessimo vincere il campionato e non è stato facile ripeto perché è stato più difficile del dovuto perché veramente abbiamo trovato tante difficoltà ma siamo stati sempre bravi a rimanere sul pezzo ma perché eravamo convinti della nostra forza e sapevamo che potevamo portare a termine la nostra missione cioè per quella di vincere il campionato. Ecco prima di dare spazio anche le domande da casa ne sono arrivate diverse già pronte ti chiedo invece Emanuele a me viene in mente un'altra data se non sbaglio il primo agosto del 2018 dovrebbe essere quella comunque una partita partita che non diceva assolutamente nulla cioè San Maurese Cesena fu la prima uscita a San Mauro Pascoli ecco lì faceva ancora più caldo perché forse i gradi erano addirittura 40 io ricordo nell'intervallo ci fu il robusto insomma le varie sostituzioni no volute per dare spazio un po' a tutti tu entrassi dalla panchina eri appena arrivato praticamente sei stato il primo acquisto di altri pelliccioni in pratica ecco della nuova avventura ti chiedo ripensando a quel momento lì e oggi che percorso è stato? È stato un grande percorso perché comunque venivo da una squadra che avevamo già vinto il campionato in Serie C quindi era diciamo per me molto importante rifarmi con la maglia del Cesena perché sapevo che avevo delle grandi opportunità quindi è ricominciato il cammino col Cesena da come dici te quella partita di San Mauro dove dove all'inizio sono stato il primo ragazzo che ha firmato quindi un po' ero non conoscevo nessuno un po' indiscreto così e poi piano piano comunque so già che il giorno dopo se non mi ricordo male aveva firmato Danilo Alessandro con Cappellini poi subito dopo Beppe sempre e piano piano il gruppo è diventato sempre più ampio e forte e è partita la cavalcata poi. Partita la cavalcata allora Enrico su Facebook chiede Beppe c'è stato un momento in cui hai temuto di non farcela cioè che la promozione potesse sfuggire di mano? Sfuggire no di non farcela perché a volte ci ho pensato perché il distacco era iniziava iniziava ad incrementarsi di più sempre di più sul Matelica ma sapevo che non potevano reggere per tanto tempo questo ritmo pur essendo anche loro una squadra organizzata e quindi noi non potevamo sbagliare e quindi siamo stati bravi a fare tante vittorie e incanalare tante vittorie tanti risultati e poi aspettarli al Manuzzi nello scontro diretto per poi tenere il passo e cercare di allungarlo noi verso la fine. Potevamo ti dico la verità a chiuderla un po' prima un po' di partite prima ci abbiamo messo tanto ma ripeto le difficoltà erano enormi anche con le squadre piccole non si riusciva a trovare tanto spazio perché venire a giocare contro il Cesena al Manuzzi e portare via un pareggio era oro per loro quindi le difficoltà erano tante ma ripeto e poi se Valeri faceva meno autogol magari nella nostra porta. Esatto. Giusto. Si poteva chiudere prima no? Capito? Ricordiamoli, ricordiamoli anche gli Omagor così. A Termoli uno bello in scivolata e uno di testa all'angolino col Montegiorgio. Esatto. Qual è di due il più bello? Beh quello con Montegiorgio non male effettivamente. Quello a Montegiorgio è imprendibile. Chico non l'ha vista quello. No no quello non lo vedeva nessun portiere perché è entrata in un angolino basso in una traiettoria veramente però al di là di questo ripeto grande merito a tutti quanti dal magazziniere a chi ha impostato la squadra e i direttori perché veramente hanno fatto un grande lavoro. Beh per ricorderai anche la terribile punizione imparabile contro il Francavilla a proposito di Francavilla di Valeri in trasferta no? Quella cannonata irresistibile. Sì sì passata sotto deviata e quindi no vabbè quello è stato un... Trova uno dei gol più importanti sicuramente. Più importanti perché iniziavamo avvicinarsi verso le ultime partite e tra l'altro in un campo difficile contro una squadra ostica quindi è stato importantissimo quel gol. Campo imbattuto tra l'altro fino a quel momento lì se non ricordo male. Allora Lucia Darimini chiede Vale ma che colore ti sei fatto? Cos'è successo? Allora prima ho usato il decolorante due volte poi due volte no no due volte così diventano gialli proprio gialli platino e poi ho usato il colore il colore grigio così sono diventati grigio platino. Ora piano piano sta andando via il colore ce la rigresci da sotto un po' brutti dai. Per spreciare là di fianco ai distinti eh. E vabbè bene dunque Luca da Gambetto la Conte stai pensando al tuo futuro a questo interessante allenatore dirigente del Cesena cos'altro come ti vedresti in questo momento? Ma non lo so cioè dipenderà anche da cosa vuole fare la società da quello che insomma mi vorrà proporre se come giocatore o un'altra scelta diciamo a livello societario questo lo valuteremo quando ci incontreremo. È chiaro che adesso è un po' presto visto quello che sta succedendo però sicuramente ne parleremo. Certo anche perché chiudere senza una un saluto una passerella insomma tu una passerella l'hai già fatta allo stadio? Sì ne ho esatto però sì sarebbe brutto ti dico la verità chiudere in questo modo e quindi però ripeto le società la società deve fare tante valutazioni quindi ci incontreremo e se ne parlerà ecco. Ti vedresti come allenatore a 50 anni a 45 anni o quello che è? Ma sì perché no perché no sì è una cosa che mi piacerebbe fare sicuramente che mi stimola molto e quindi è quello che alla fine è una cosa diversa da quando sei giocatore ma è una cosa che tanti giocatori quando smettono di giocare provano a fare. Ecco chi invece ha un futuro sul campo piuttosto lungo davanti è Emanuele Valeri al quale Ricchi sempre su Facebook chiede o insomma sottopone questa osservazione lo scorso anno uno dei migliori quest'anno ha tratti devastante ti sei reso conto di essere uno dei prospetti migliori? Qui rispondiamo noi sì perché altrimenti poi il capello si allunga ancora di più però che obiettivi ti sei prefissato? No io come ho detto dopo il primo anno tra i professionisti che non ho che non ho giocato quando era a Lecce anche se avevamo vinto da da quell'anno ho deciso sempre di comunque trovare una squadra che puntasse tanto su di me che mi facesse giocare come è stato il Cesena l'anno scorso e magari qualcosa qualcosa in più c'era ma io avevo l'intenzione di rimanere a Cesena perché comunque qui già mi conoscono tutti sanno tutti chi sono e sanno quanto posso valere quindi anche a me dentro questo dava una mano molto grande e così sono rimasto qui e ho rifatto quello che dovevo fare insomma il mio dovere giocare e fare bene Qual è stato il momento di questo campionato della svolta dove hai capito che perché inizialmente era una sorta di staffetta con Giraudo giocavate quasi una partita a testa ecco ti chiedo quando perché poi è stata la crescita prorompente il gol di Ravenna decisivo e da lì una cavalcata quando hai capito che potevi diventare titolare come poi era successo no ma io non penso mai di essere stato un titolare perché comunque anche in allenamento ho sempre dato il cento per cento per per giocare la domenica e a proposito della della staffetta come dicevi te con Giraudo quello lì è stato all'inizio comunque ci stanno anche queste cose per per stimolare per motivare il compagno poi ovvio uno dei due deve giocare uno dei due va in campo quindi è andata è andata così dai però sono sono contento anche per fede perché è una grandissima persona un grandissimo ragazzo e e alla fine alla fine è andata così dai Oh torniamo sulle domande tecniche motivo dietro la scelta di questo biondo platino chiede Gloria alla quale è piaciuto eh questo scrive bello questo biondo platino Gloria da Sarsi lo non ho capito scusa Gloria da Sarsi bello questo biondo ti leggo proprio testuale bello questo biondo platino c'è un motivo dietro alla scelta no no nessun motivo ho visto la quarantena ho detto prima ho rosato tutto a zero ho detto tanto qui c'è tanto tempo da aspettare ancora a voglia e poi ho detto vabbè dai tanto stanno ricrescendo sono brutti uguale facciamoli biondi almeno poi quando arrivano via sarà finito tutto speriamo bene è un po' un conto alla rovescia tricologico insomma Luca scrive ho visto nel video di Cesena Stories che Ricciardo aveva promesso la mangiata per il cannoniere l'ha mantenuta? non è ma anche a tutti noi? ho visto nel video sì che Ricciardo aveva promesso la mangiata sì immagino cioè per aver vinto il titolo di capocannoniere avrebbe offerto una cena a voi tutti l'offerta vu? non mi ricordo non mi ricorda no Gianni devi tornare devi tornare Gianni questo questo gli va bisogna insomma avvisarlo perfetto oh Andrea scrive il gruppo dello scorso anno è stato incredibile un'affinità con noi tifosi mai vista prima in tantissimi anni di storia a Cesena ci raccontate qualcosa di quel gruppo fantastico Beppe tu eri il catalizzatore spesso degli scherzi sia ricevuti che proposti forse più ricevuti più subiti insomma diciamo così vai quante io so di bottiglie piene di sale ad esempio bottiglie d'acqua piene di sale sì a tavola quella è una delle tante dai scarpe legate o con vasellina sotto poi se ne possono raccontare un'infinità ecco però c'era grande armonia tra di noi e con i nostri tifosi e questo ti spinge a dare a fare quel quid in più in campo che poi dopo si è visto perché se le due cose funzionano bene a meraviglia il giocatore in campo dal 300% quindi questo soprattutto nell'ambiente Cesena Funz quando le due cose vanno assieme nello stesso modo Funz è un'alchimia veramente difficile da fermare certo Emanuele qual era lo scherzo che funzionava meglio con Beppe? ah ma ogni volta che ci si metteva a tavola quello là qualsiasi cosa una volta assieduti a tavola qualsiasi cosa olio, sale, pepe, qualsiasi cosa bicchieri, dentro piatti, dentro qualsiasi cosa insulti ti spieghiamo anche la vasellina perché c'è chi chiede della vasellina la vasellina di solito si utilizza per ammorbidire le scarpe per non far venire le vesciche almeno ai miei tempi era così credo ancora sì o sotto le ciabatte perché quando le mettevi di andare a fare la doccia rischiavi di andare in terra oppure panni appesi a detta di alcuni non troppo belli sopra dove ci sono le luci così al loro rientro vedevano tutti che non era un gran bell'abbigliamento insomma un po' di tutte queste cose qua chiarissimo salutiamo anche Lidia sempre da Cesena che scrive ci mancate Burdel Gigi non scherziamo il Conte è ancora il migliore non scherziamo quindi per la carriera d'allenatore c'è ancora molto tempo e ancora Katiuscia ciao Beppe con quale giocatore sei rimasto più in contatto e in amicizia qui probabilmente il riferimento è un po' a tutta la tua esperienza mi verrebbe da dire vita dal giocatore del Cesena sì mi sento a volte con Maurizio Lauro con Max Volta siamo rimasti molti in contatto con loro poi gli altri vabbè quelli che sono qua a volte succi gli altri alcuni dei compagni sono ancora tuttora nella mia squadra quindi con capelli a volte insomma ce ne sono alcuni ce ne sono quindi è sempre bello ricordare compagni con cui ha avuto bellissime annate certo anche perché a proposito di anniversari di ricordi il 30 maggio sono dieci anni hai parlato di Volta e di Lauro di quella che è stata un'altra pagina esatta memorabile che poi ricorderemo ovviamente una domanda abbastanza simile per Valeri invece da Amedeo Eri e sei molto amico di Alessandro vi sentite parlate mai del Cesena sì sì io Danilo lo sento spesso dalla fine dell'anno scorso ogni volta quasi ogni martedì su per giù ogni volta che facevo il viaggio Roma a Roma Cesena lo chiamavo ci sentivamo tutto bene la famiglia tutto ok per il resto sì abbiamo parlato anche del Cesena ovviamente come molti altri io non solo mi sono sentito con Danilo a fine campionato anche con Michael con Gianni con Loris Stortori sono rimasto abbastanza in contatto anche con Marfella che era a casa mia e sì si parlava anche dove gioca Marfella l'abbiamo perso lui come di vista Marfella ha fatto all'inizio a Messina e poi ora se non se non ricordo male al oddio Francavilla possibile mi fido penso penso Francavilla credo non ricordo bene comunque a prescindere da questo sì si parlava di Cesena perché comunque è rimasta nel cuore a tutti a tutti i ragazzi che sono andati via l'anno scorso io almeno che ho risentito io è rimasta nel cuore a tutti quest'annata che abbiamo fatto l'anno scorso Gigi ancora per il capitano a parte Cesena quindi togliamo quella che è ovviamente al primo posto per mille motivi a cominciare dalle presenze quale squadra o città o entrambe ti è rimasta più nel cuore di tutta la tua carriera perché ovviamente qui parliamo di tanti anni cominciato di una lunga carriera Combo San Marino li ho qua così Lucchese ancora San Marino Torino Padova Lecce e Arezzo ovviamente tutti i vari intermezzi di Cesena ma senza dubbio Torino perché sono stato due anni e mezzo la mia famiglia si è trovata bene anche ci hanno trovati bene i bambini li ho dovuti mandare all'asilo là ho fatto le scuole una parte di scuola e quindi per la piazza che è sicuramente per il blasone storico che ha e anche se quell'annata poi la prima annata con Franco Lerda giocai abbastanza sempre mentre con Ventura giocai poco però mi tolsi la soddisfazione alla promozione del 2-0 con il Modena in casa quindi fu veramente una gioia incredibile quello è un bel ricordo quindi sono tre promozioni serie A nella carriera giusto? sì le due nostre più quella col Torino beh insomma non male ecco a proposito Cristiano a quale promozione si è più legato Beppe? immagino in questo caso si riferisco ovviamente alle 5 col Cesena ma ti dico Piacenza quella di Piacenza è stata veramente una forse perché è quella che arrivi sicuramente nella massima serie quella che ti dice cavolo sei veramente riesci ad affrontare i grandi campioni che fino a qualche anno fa guardi solo negli album delle figurine o solo in tv quella poi dopo Latina ma le altre non è che senza nulla togliere alle altre però le più belle sicuramente sono quelle lì che ti permettono di arrivare nel massimo mondo calcistico assolutamente tu Emanuele quando ti ha chiamato il Cesena due anni fa ormai cosa conoscevi cosa sapevi cosa rappresentò quella chiamata ricordiamo che tu vieni comunque da un'esperienza a Lecce da un campionato anche vinto tra l'altro qualche partita poche però già avevi assaggiato sì sì appena arrivata la chiamata del Cesena io come avevo già detto non ci ho pensato due volte perché comunque una piazza come Cesena in Serie D dopo un anno comunque che non hai giocato in Serie C fai fatica a trovare squadra e una piazza come Cesena era un lusso per me è stato un lusso quindi ho subito detto sì ho accettato e non ci ho pensato due volte non me ne pento per niente guarda la cosa più giusta tra l'altro la tua è una carriera tu sei classe 98 quindi ancora giovanissimo però una carriera per un giovane un po' particolare diversa da tanti altri cioè molti escono dai settori giovanili preferiscono rimanere magari fare tutto il percorso fino alla primavera di settori giovanili importanti tu invece se non sbaglio hai solo assaggiato giusto o neppure quello della Lazio no sì io sono stato fatto il settore giovanile nella Lazio però poi hai preferito a un certo punto metterti tra virgolette in proprio per fare esperienza sì sì ho fatto esperienza in eccellenza a 16 anni senza fare primavera senza fare niente da lì è andata bene e c'è stata la chiamata del Rieti in Serie D a 17 anni sono andato a Rieti in Serie D e poi anche lì ho vinto playoff di Serie D e poi c'è stata la chiamata del Lecce questa è la testimonianza che da giovani si può crescere quindi anche ricordo l'hai stesso detto in alcune interviste anche non solo dentro un settore giovanile ma già in prima squadra quando si gioca poi per i punti per la promozione e la retrocessione certo a 16 anni iniziare a giocare con i grandi comunque non è facile perché sei ancora diciamo tra virgolette un bambino quindi ti insegnano tanto e ti imparano a crescere i più grandi certo certo allora Anna scrive Emanuele hai fatto lo stesso colore dei capelli di Danilo credo riferito anche all'anno scorso poi non so se sia lo stesso fornitore sì più o meno penso che sì però non era lo stesso fornitore perché lui mi sa l'aveva fatti qua o a Roma non ricordo o a Cesena non ricordo bene indagheremo indagheremo è un altro fornitore è lo stesso quello è lo stesso Luca complimenti a entrambi per Valeri volevo dirti per me sei uno dei terzini più forti mai visti a Cesena tra l'altro in un ruolo effettivamente dove non c'è tutta questa abbondanza va detto anche questo sì sì questo è vero ringrazio tanto però ancora penso che ci sia tanta strada da fare come ho detto adesso sono giovane quindi devo fare ancora molta esperienza poi quello che sarà sarà vediamo vediamo come andrà per Beppe D'Alessio nell'anno della A questa è una domanda interessante sul anche passato c'è mai stato un giocatore avversario che ti ha impressionato dice non so della Juve del Milan o di chiunque altra squadra l'avversario che più di altri ti ha impressionato qualche anno fa in Serie A ma Pirlo sicuramente per le giocate che ha anche quando è pressato in quella Juve lì c'erano giocatori veramente formidabili Vidal che è da per tutto e lo senti anche Pogba una tecnica fisica incredibile poi ce ne sono tanti altri però quelli parliamo di giocatori top player che veramente sono sono lì per veramente per vincere tutto quello che c'è da vincere certo quindi possiamo dire il centrocampo della Juve di Allegri di quell'anno tra l'altro partita memorabile perché Almanuzzi si era devastante si 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 Stefano Davasto quindi non solo Romagna ma scendiamo di parecchio De Feudis unico Valeri fortissimo Giulianova sembra lontanissima un ricordo del 5 maggio beh quindi abbiamo già detti no spolverati diversi a inizio a inizio di resta sicuramente la festa con i tifosi nel viaggio di ritorno agli autogrill lì ci siamo divertiti parecchio esatto esatto infatti dei gran caroselli fumogeni insomma per strada tante belle cose bei ricordi Michele credo perché si firma Michi la Juve era molto forte ma non avevano fatto i conti con Milan Duric effettivamente perché il primo tempo di quella partita fu straordinario ricordo tre palle gol almeno oltre al gol sì sì beh devo dire che quella partita lì fisicamente Bonucci fece fatica con Milan quindi a spostare un gigante del genere e quindi fece veramente una bellissima partita poi dopo per fortuna arrivò la doppietta di Brienz con due grandi gol bellissimo Andrea mette in difficoltà penso Emanuele con questa domanda preferisci lo scudetto alla Lazio in questo finale di stagione dovessi ovviamente finire o esordire speriamo presto in Serie A con il Cesena preferirei in Serie A con il Cesena questo 100% ci metto una mano sul fuoco sicuro perché comunque Lazio ha altri anni per vincere i scudetti dai in Serie A con il Cesena non è una cosa facile quindi perché l'Aquila te lo dico io l'Aquila non ha terra sopra quel nido lì hai capito che c'ha in testa è troppo giallo non ha terra ascolta una cosa Beppe per te ancora siamo gli ultimi minuti di trasmissione ma insomma le domande arrivano a cascata Fabio scrive per il Conte anche questo è interessante qual è il giocatore più sottovalutato con cui hai giocato a Cesena quindi un compagno che a tuo avviso magari prometteva tanto e che non è arrivato oppure che è stato semplicemente sottovalutato da voi da noi giornalisti dalla gente ma non lo so adesso ci devo pensare un po' sottovalutato no magari ci sono magari espresso poco in rapporto alle qualità anche alcuni compagni però adesso non mi viene il nome ma che magari hanno trovato poco spazio poi nelle altre annate sono riusciti a dimostrarsi a esprimere il loro valore ma capita spesso in delle squadre che non viene espresso il valore di un giocatore vuoi per scelte tecniche vuoi perché vieni messo magari in un ruolo che non è attua che non hai mai o che hai fatto poco ecco che è chiaro non riesci a esprimerti al meglio certo come sta procedendo vado torno sull'attualità o meglio le settimane di quarantena terminate perché siamo entrati in questa fase 2 però come le avete trascorse tu Beppe con i tuoi figli il parco l'erba da tagliare le siepi ormai sei riuscito a lavorare un pochino sì 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 anche perché il preparatore ci dava tutti i giorni il lavoro da svolgere ce lo dà tutt'ora poi fortunatamente ho un po' di spazio per poter giocare fuori quindi c'è un po' da badare anche il giardino ho tante cose da sistemare quindi diciamo è passata così anche se ti dico la verità non pensavo fosse così due è stata dura proprio mentalmente per fortuna adesso qualcosa si è sbloccato hanno riaperto un po' di di ponti e si riesce a fare qualcosa in più rispetto a prima a Roma invece Emanuele come come butta all'inizio è stata difficile perché appena è iniziata la quarantena vivendo in una città è difficile anche con il prof trovare posti per allenarsi così è stato davvero difficile perché molta gente è a casa comunque è capitato anche che sono andato fuori a fare allenamento e mi hanno fermato le forze dell'ordine e mi hanno fatto tornare a casa comunque è anche capitato questo e quindi ho dovuto incominciare ad allenarmi dentro casa poi piano piano che questi decreti si sono allentati un pochino ora si può si può uscire per fortuna a fare sport individuale fuori e quindi riesco ad allenarmi meglio certo bene ragazzi siamo arrivati in fondo io ovviamente ringrazio innanzitutto tutti gli amici da casa che ci hanno scritto hanno inviato domande e curiosità e non solo vi ricordo ovviamente che il saluto dei burdelli non termina oggi ma proseguirà nelle prossime settimane poi capiremo ovviamente cosa ne sarà della stagione probabilmente già al termine di questa settimana con l'assemblea di Lega Pro il Consiglio federale di giovedì e venerdì forse avremo qualche notizia in più anche da quel fronte e su quel fronte grazie intanto invece dal fronte di Bertinoro a Beppe De Feudis grazie grazie a voi a presto e a presto salutiamo il capitano e ovviamente invece dal fronte romano Emanuele Valeri ciao e grazie grazie a tutti ciao grazie a tutti io vi saluto ringrazio Gianluca Rossi per la parte tecnica e a presto ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti